Il matrimonio è uno solo, quello della famiglia intesa uomo-donna, io intendo così. Secondo me è una cagata scuola, c'è la natura fatta uomo-donna, è l'ultimo che ci fa uomo-donna-donna. No, non bisogna sposarsi tra uomo-donna-donna, hanno fatto uomo-donna per un motivo, uomo-donna che fai figli, uomo-donna fai figli. Io non sono a favore dei gay, secondo me non si dovrebbero sposare e comunque non dovrebbero stare insieme. Io ho fatto un uomo e una donna per cui loro devono stare insieme e non le persone dello stesso sesso e quindi secondo me non è giusto. Sono sessuali, sono sessuali come me, come c'è. Vengo opportuno di fare il rapporto a me, come tutti i temi di bioetica, come il testamento biologico, come la mia etanasia, come il problema dell'aborto, come il problema del divorzio, tutto quello che è tematica bioetica. Io penso che sia qualcosa di quasi scontato sul fatto che questi diritti devono essere riconosciuti. Dovremmo in qualche modo allinearci con i paesi a cui ci ispiriamo, con cui siamo più in contatto, a partire dai nostri cugini europei, dove i diritti delle coppie che siano eterosessuali o omosessuali sono comunque tutelati. Secondo me non se ne dovrebbe neanche parlare come qualcosa su cui essere pro e contro, ma bisognerebbe essere pro e basta.